E' arrivata l'ennesima sentenza del Tar nella lunga vicenda fra Carlo Scalzone, titolare dell'Idoazzurro, e il Comune di Agropoli. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania in questo caso ha sentenziato riguardo il ricorso presentato da Scalzone per l'annullamento delle ordinanze del Comune datate 2019, di sospensione dell'attività di ristorazione dell'Idoazzurro e di demolizione di alcuni dei locali dello stabilimento, considerati abusivi. Carlo Scalzone si è opposto a queste ordinanze, ma il Tar ha giudicato il suo ricorso infondato vista l'acclarata abusività di tre manufatti su cinque presenti nello stabilimento. Sulla vicenda era intervenuto anche il Consiglio di Stato, che aveva negato all'imprenditore la sospensione di una prima sentenza del Tar. Il Tar quindi si è pronunciato definitivamente sul ricorso e condannato Scalzone al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Agropoli. Quest'estate la storica pizzeria dell'Idoazzurro, risalente e attiva dagli anni 70, non aprirà.